L'osservatorio salute ha messo in luce anche quelle che sono le percezioni delle donne che dopo gli esami di prevenzione hanno evidenziato patologie di tipo tumorali. Una situazione positiva però che lascia molte aree di miglioramento su alcuni aspetti. Innanzitutto i tempi, anche nella post diagnosi i tempi sono un fattore critico, quantomeno un'area di miglioramento. Le spese legate al percorso di cura sono l'altro elemento su cui le donne pongono particolare attenzione e in più tutto ciò che riguarda la gestione del percorso di cura che in qualche modo incide sull'organizzazione familiare, sulla necessità di avere sostegno di tipo domiciliare. Tutti elementi che vanno integrati in maniera più efficiente per sostenere in un momento così difficile le donne che hanno scoperto di avere una patologia.